Mmm, che accolina! I Viustel Evviva Amadori sono saporiti, gustosi e adatti ad ogni occasione. Senza glutine, con tutta la garanzia del pollo e tacchino 100% italiano. Evviva il Viustel Amadori! Anche al formaggio! Vissa gaudi min'offerta speciale t'a tletto pacchetti vi het pshein. Fu Amadori e Viva sausages bilgiobbon.